la sudola nemica dei velivoli la nebbia ha causato un nuovo disastro aviatorio il pilota di un apparecchio passeggeri simile a questo che vedete nel tentativo di atterrare urtava in un banco di fango a pochi metri da un prato aperto si deplorano cinque vittime come vi siano degli scampati è un vero miracolo l'apparecchio è andato completamente distrutto grazie